Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, appena terminata Juventus-Atalanta con il risultato di 2-2 Non mi vedete particolarmente arrabbiato perché il risultato oggi è fondamentale per la Corsa Scudetto visto e considerato che io sono un risultatista Son calmo, son calmo, però vi dico già che se questo è il modo in cui andremo ad affrontare Lione e le nostre avversari di Champions Raga, ma dove cacchio vogliamo andare? Ma dove cacchio vogliamo andare? La sintesi di questa partita è la seguente Se c'era una squadra che meritava di vincere oggi ai punti e per quel che ha dimostrato in campo quella era l'Atalanta, che è venuta qua spavalda, gaiarda, a dominarci in lungo e in largo per gran parte del primo tempo Il primo quarto d'ora, i primi 20 minuti dell'Atalanta per come ha impostato la gara Ragazzi, ci han dominato, ci han mangiato i maccheroni in testa Una roba allucinante Noi dei passivi, di prima categoria, dei pelandroni Fase di pressing fatta malissimo Dei pelandroni ad andare sulle seconde palle Oh, ma ci vogliamo dare una bella svegliata Oh, c'è uno scudetto in ballo, cazzo Mica pizze fiche o cazzate C'è uno scudetto in ballo Ma oggi devono essere motivati, vista anche del risultato della Lazio Approfittarne, dare una bella zampata a sto campionato Con tre punti Che lo so che l'Atalanta è forte Lo so benissimo Che ti mette in difficoltà Perché gioca in maniera corale Che fa veramente godere chi ama il calcio Ok? Noi oggi ragazzi abbiamo fatto una delle partite peggiori in assoluto Come impostazione Molto, molto allegriana Con Sarri, eh? Sarri l'abbiamo preso per darci quel Quella Oggi partita allegriana Tutti in difesa Cercare di coprirci Giocare di ripartenza Lancioni lunghi Questa è la sintesi della partita Poi c'è stata la manina del dio del calcio Il dio culo Che ci ha aiutato Ha detto No ragazzi, dai Per tutto il percorso forse Meritate di vincere sto scudetto E insomma Vi faccio pareggiare sta partita In modo rocambolesco Con due falli di mano Che c'erano Che c'erano Perché se c'era quello di Bonucci E ci sono tanti falli di merda Questi c'erano Tutti Tutti Non mi avesse dato il primo rigore L'arbitro Sarei andato allo stadium Che non ce l'ho distante Ce l'ho un quarto d'ora Avrei fatto invasione E l'avrei presa calci in culo Dopo il rigore che ho visto dare Al Milan contro la Juventus Però Però Ripeto Ripeto L'Atalanta oggi Era la squadra che meritava di vincere Pari che ci può stare Precarità Però se c'era una che doveva vincere Quella era l'Atalanta Che è venuta qua a dominare il gioco Problematiche riscontrate a livello di collettivo E poi passiamo ai singoli Pressing inesistente Completamente inefficace Loro avevano due o tre linee di passaggio Ogni volta L'imbarazzo nella scelta Ci facevamo aggredire in maniera allucinante Non c'era un movimento senza palla E non dettavamo noi le linee di passaggio Pellandroni nel pressing E in fase di possesso Loro ci pressavano come degli indemoniati E noi non facciavamo un minimo di movimento Per cercare un po' di cambiare le cose Oh così non andiamo da nessuna parte Ma questi principi di gioco di Sarri oggi Non si sono visti La verità è questa A me dispiace dirlo Perché io sono sempre Dalla parte di Sarri E sia chiaro Però oggi in campo Dell'idea di Sarri Voi avete visto qualcosa? No e lo difendo Perché non ha ancora ripeto Il materiale all'altezza Per sviluppare una sua certa idea di gioco Però non ho visto un cazzo ragazzi La verità è questa Né il pressing Che in tante altre partite abbiamo visto E ci ha fatto veramente entusiasmare Oggi nulla Né in fase di costruzione Né in fase di pressing Una partita risolta dalla casualità per noi Dalla casualità Dalla casualità Perché i due falli di mano sono casuali 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 Passiamo ai singoli Bonucci Male Quadrado Male Scesni Così così Niente di che Danilo Male De Ligt Bene Bene L'unico che è riuscito a tenere testa Zappata Bentancur Malino Malino Il secondo gol E causa sua Che cazzo esci a testa alta Col pallone tra i piedi Col rischio di mettere in merda Tutti i tuoi compagni Che cacchio fai Benta E oggi l'hai presa dall'Atalanta Ma quando giocare col Barcellona Con Real Madrid In Champions League Pensi che ti andrà meglio Col cacchio Col cacchio Non puoi Non puoi Non puoi Uscire Tu che sei il mediano basso Così E farti Veramente fare un contropiede Negli ultimi Contropiede Neanche contropiede Un'azione offensiva Negli ultimi 20 metri In cui l'Atalanta È in superiorità numerica Non puoi Non puoi Non puoi Il secondo gol È figlio di una cazzata Gigante di Bentancur In uscita È una roba Improponibile Improponibile Però Bentancur Io la perdono Perché tutto sommato Ripeto Ripeto È uno dei più brillanti Tutta la stagione È la partita che canna Io lo posso anche concedere Però Signori Anche l'erroreo di Bentancur È figlio Di uno scarso movimento Senza palla Da parte degli altri Perché se ci fosse stato Tanto movimento Qualcuno che va a ricevere Bentancur Avrebbe passato palla Invece si è trovato isolato Ha cercato l'azione personale Ci è capito bene che Dal concetto di far squadra E collettivo Poi nascono anche Gli errori individuali Se questo collettivo Non riesce alla perfezione Punto Punto Bonucci male Male oggi È male Non mi è piaciuto Non mi è piaciuto affatto Poi Era più Bene Bene Bravo Con continuità Così Continua a dare queste prestazioni Di sostanza Hai una bella gamba Finalmente Cioè io mi ricordo Quando andavo allo stadio Quando era possibile Sembrava che avesse Il carrello Della legna attaccato dietro Lo sto vedendo correre Mi fa piacere Mi fa piacere Gadrian Prenditi sta squadra Che si è pagato 7 milioni Non così per sport Ma perché Vali qualcosa Dimostra quel che vali Ma tu di Niente di che Niente di che Di bala Non capisco il cambio Quando l'ha tolto Era l'unico che ti dava Un po' Un po' di brio Lì davanti Un po' di frizzantezza E di freschezza Poi vabbè Entrati qua in Lo sliding door Vuole che comunque Lui da Quella palla là La prende Muriel di braccio E di rigore Ok Cristiano Cristiano è uno Che passeggia E vuole la palla Tra i piedi Oggi è questo Il significato Poi il suo valore Non si discute Non si discute Però oggi ha fatto Questa partita qua E quando fa queste partite qua E tutto il resto Non gira Mi fa incazzare anche lui Purtroppo Anche se lui è Dio Però ogni tanto Noi tutti bestemmiamo E ce l'abbiamo contro Dio Per qualche motivo Ok Quindi Oggi io un po' con te Cristiano Ce l'avevo In fase di possesso Tanta roba Poi c'è stato un momento In cui ha fatto Un'azione personale in fascia Potevi fare uno scarico Non ci sei riuscito E hai dato la colpa Al compagno Quando sei tu Che ti sei Impantanato In zone di campo Strane Quindi Veramente Anche la prestazione di Ronaldo Un po' pacca Però Quando lui deve essere decisivo Lo sapete Potete contare Cioè Quando vi sto battere il rigore Avrei scommesso 200 euro Che l'avrebbe segnato Il 2 a 1 Cioè sul 2 a 1 Quando ha fatto il 2 a 2 Ok Poi Higuain Ben Entrato bene Ramsey È entrato molto male Douglas Costa L'ho visto bene Meno lezioso Un po' più concreto Douglas Un po' più Concreto Dai 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 Che hai le capacità Che se impari ad essere concreto Diventi devastante Questo ancora non lo sai Però Io lo dobbiamo ripetere Se Insomma Impari ad essere concreto Diventa devastante Tutto sommato Prestazione Orribile Cioè Veramente Io non posso sperare Che noi in Champions Andiamo a giocare così Perché siamo nella merda Facciamo figuracce Figuracce Complimenti all'Atalanta Complimenti Perché tutti si fanno il culo Per la squadra Tutti 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 Oggi escono tutti morti dal campo Perché è andato tutto in campo E sono stati sfigati Perché hanno perso A causa di due rigori Per falli di mano Però Veramente Complimenti alla squadra Complimenti a Zapata Che è un attaccante Che io vorrei E se Continuate a dirmi Che gli attaccanti fisici Non servono un cazzo Che sono fuori moda Nel 2020 Vi vengo a cercare Perché Zapata È un giocatore associativo Che ti apre gli spazi Sa finalizzare Sa fraseggiare Con la squadra Ed è utile Per giocatori come Gomez Per Ilicic Esalta anche le loro qualità Quindi queste sono blasfemie Cazzate Del 2020 Che vanno di moda Ma Veramente Non c'è nulla di concreto Dietro Nulla Detto questo Prendiamoci sto punto Non sono incazzato Non sono incazzato Come il Milan Se avete visto il video Con il Milan Ero parecchio incazzato Così vi dico Che in Champions Non andiamo da nessuna parte Detto questo Se c'era una squadra Che doveva vincere Per me Quella era l'Atalanta Poi vi dico Abbiamo fatto schifo Per i moventi minuti Veramente orribili Da incubo Peggio di Ajax Juventus E Juventus Ajax Peggio di quelli Peggio Però Sono venuti loro qua Ci hanno dominato E hanno pareggiato Direi fortunatamente Prendiamoci Quel che il dio del calcio Ci ha regalato oggi Silenzio e muti Pensiamo al Sassuolo Perché Ripeto Oggi Prestazione Schifosa Figlia Probabilmente anche Dei fantasmi Di San Siro Ok Giusto per intenderci Detto questo Noi ci vediamo Più tardi Con le telecronache Con tutta una serie Di contenuti video Domani con la live reaction Ragazzi Non sono contento Della prestazione Mi adagio sul risultato Mi adagio sul risultato Perché Conta alla fine Vincere quel cazzo Di scudetto Conta vincere Ciao